Un'altra giornata amara, Presidente Mauro Castelli, una giornata amara non soltanto per la sconfitta. Sono un po' amareggiato dal punto di vista del... no, non tanto del risultato, del fatto che, sai, questa poi alla fine sono due punti che perdi, no? Però io sai quanto lotto perché voglio portare gente a vedere questo sport, perdere in casa un derby non fa bene al morale a tutti, però i ragazzi, ecco, io ho visto una cosa in campo stasera, i ragazzi di Arezzo hanno dato l'anima per giocare la partita, i ragazzi di Arezzo veramente oggi li ho visti col sangue in pelle fino alla fine, quindi questo mi riempie di orgoglio il fatto che i miei ragazzi riescono a stare in campo anche in una cigolde. Noi siamo entrati qua con il punta dei piedi per capire come funzionava questa categoria, sono situazioni che possono accadere, quindi io voglio fare i complimenti a Montevarchi perché in campo sono stati i più bravi di noi, hanno fatto una difesa molto buona e purtroppo chi oggi doveva muovere un po' le fila non l'ha fatto, chi doveva fare canestro non l'ha fatto e questo anche perché ovviamente loro non ce l'hanno permesso, quindi è sempre un pregio agli avversari, quindi complimenti a Montevarchi e noi dobbiamo lavorare parecchio sotto l'aspetto della testa. Grazie